Colonnello, il manoscritto, perché ridarlo a me? Perché, signor Cormac, io mi fido di voi. E con voi è in mani sicure. Con rispetto, signore. Io sono un bersaglio ben più di voi. Signori, Kasego Waze vuole attaccare Alban. I suoi alleati minacciano un villaggio Oneida, e le truppe francesi sono già nel nostro territorio. Potrei sempre rallentare i francesi e aiutare gli Oneida. Prepareremo la difesa ad Alban. Se vogliamo sconfiggere Kasego Waze e i suoi alleati, dovrò aiutare gli Oneida e vedere che fare con i francesi. Sì, come andiamo. Sì, come andiamo. Grazie. 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 Wait for the fossilette, and charge. You will stay real before the day ends. This is a bloody massacre. For moi, je pourrais en sorte d'arracher l'étoile. Oh, je pourrais en sorte que le brouillard se lègue. Viva ! Voyez-moi, je ne comprenais pas la raison avant la tombée de la nuit. Il ne faut plus de mécanismes. Nous devons les déloger de leur service. Oh ! Oh ! Oh ! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! 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 Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.